Augusta, ladri disattivano allarme per tentare furto in gioielleria arrestati dai carabinieri. Due ladri maldestri, disattivato dall'arme, tentano il furto in gioielleria ma vengono acciuffati dai carabinieri della liquida radimobile della compagnia di Augusta che hanno tratto in arresto Sergio Schifitti, pregiudicato Augustano, 53enne, e Giuseppe D'Agostino, pregiudicato Catanese, 39enne, sorpresi in fragranza di reato mentre tentavano nottetempo di penetrare in una gioielleria per svaliggiarla. Erano le tre di notte circa quando i carabinieri nel transitare in Viale Italia, nella cosiddetta Borgante di Augusta, hanno notato i due soggetti che avevano già asportato il sistema di videosorveglianza e di allarme posto all'ingresso della gioielleria con l'ausilio di Grimaldelli stavano cercando in quel momento di accedervi, sicuri che una volta entrati nessuno li avrebbe potuti scoprire. I malviventi, notati militari, si sono visti scoperti e hanno tentato una precipitosa fuga a piedi per le vie limitrofe sperando di riuscire a far perdere le loro tracce ma sono stati pressoché subito acciuffati e bloccati. I due, subito arrestati per tentato furto aggravato in concorso dopo le formalità, sono stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria Aretusea presso le loro abitazioni in regime di arresti domiciliari.